Abbiamo fatto un buon primo tempo, dopo nella ripresa ci siamo un po' leggermente abbassati. Un episodio ci ha condannato, è normale che dopo l'episodio ci siamo un po' abbattuti e dispiace perché, come ripeto, eravamo convinti dal campo di riuscire a strappare al minimo un pareggio che sarebbe stato, secondo me, anche meritato. Sì, quando giochi contro il San Benedettese le motivazioni devono essere sempre al massimo perché io forse che sono qua da tanti anni la vivo in maniera diversa, però è una partita sentita, è una partita dove la gente qua si aspetta tanto da noi e vogliamo cercare di regalare una soddisfazione alla nostra gente. Siamo all'inizio campionato, quindi è normale che la sconfitta della partita precedente ti crea comunque quella carica in più per cercare di fare i primi punti, però, come ripeto, siamo all'inizio, quindi sarà importante sfidare la San Benedettese a riso aperto senza nessun timore. È pesato perché comunque Ivan è un giocatore fondamentale per noi, il nostro capitano, quindi per noi è in assenza pesante. Non siamo abituati a giocare senza di lui perché è sempre stato una pedina fissa nel nostro schieramento, quindi è pesato, è pesato perché è esperienza e tutto, però penso che chi ha giocato a suo posto ha fatto un'ottima partita e quindi dobbiamo cercare di colmare alle assenze facendoci trovare pronti. Vedere Ilari dall'altra parte ti farà strano? Carlo è un ragazzo a cui sono molto legato, quindi farà un effetto un po' particolare, però è andato con la maglia sbagliata, quindi cerchiamo di dargli un filo da torcere.